Dopo sei turni senza vincere la Iesina riprende il passo salvezza con tanti gol ai danni della Sant'Egidiesi in una gara che diverte il pubblico del Carotti. I Leoncelli dilagano nel finale in una curva che vede la protesta della curva Leoncella lasciata deserta dagli Ultras dopo i provvedimenti arrivati in seguito ai fatti post-Iesina Civitanovesi. Squadre in campo entrambe con un 4-4-2, gara subito dai ritmi vivaci, il primo ad impegnare Faroe D'Amore al secondo minuto, il numero uno di casa controlla. Per la Iesina tiro alto di Sebastianelli al terzo, poi al settimo Nicola Cardinali mette questo pallone insidioso in aria ma nessuno arriva a deviare a rete. Di nuovo Sant'Egidiese pericolosa, Censori, serve in aria Cremona, tiro dell'attaccante ospite e si oppone col corpo Gabriele al dodicesimo. Cresce la manovra della formazione Leoncella su calcio d'angolo al diciassettesimo ci prova Gabriele di testa, deviazione in angolo di un difensore ospite. Di nuovo Iesina con una buona manovra che al ventitresimo Nicola Cardinali conclude con palla al lato. Al ventiquattresimo si sblocca la partita, Sebastianelli serve frulla sulla sinistra, bella la conclusione del 92 di casa che manda alle spalle di Palmieri il gol dell'1-0. Al trentacinquesimo controllo in aria di Ragazzo, sulla sua conclusione il portiere della Iesina respinge di piede. Al trentottesimo calcio d'angolo e colpo di testa ancora da Ragazzo, risponde alla grande Faroe. Nel secondo tempo arriva al quarto d'ora il colpo del 2-0 di Sebastianelli che si libera in aria e poi scarica un bolide sotto l'incrocio dei pali al cinquantanovesimo. Nel finale dilagano Ileoncelli, ci prova al settantanovesimo in Vernizi ma non inquadra la porta sulla palla servita da Negro. Sant'Egidiese in dieci dall'ottantesimo per il secondo cartellino giallo a Sosi. La Iesina va di nuovo a segno all'ottantaduesimo con Rossini in aria. All'ottantaquattresimo in Vernizi si rifà dell'errore precedente, fila in porta e questa volta realizza la quarta rete dei Leoncelli. L'ultima emozione arriva all'ottantottesimo, atterrato in aria di rigore della Sant'Egidiese Negro dal dischetto. Tommaso Gabrielloni trasforma e realizza il 5-0.